Siamo con Mr. Carmine Turco e chiediamo subito un pareggio che comunque non ci voleva. Ci si aspettava di finire uno al mese di ottobre in maniera diversa dopo un altro pareggio. Sì, sembriamo una squadra dei pareggi. Oggi non mi sento di dire nulla alla squadra perché hanno cercato di dare quello che avevano. Venivamo comunque da un periodo di tour de force senza grandissimi cambi. La squadra è anche un tantino stanca oggi. Abbiamo avuto le nostre occasioni per cercare di vincere la partita. Quella mi ricordo quella di Di Giacomo. Abbiamo perso probabilmente un po' di tempo nel primo tempo. Questo ci ha un po' penalizzato. Nel secondo tempo i ragazzi hanno giocato, cercando di fare la partita, cercando di balleggiare, trovare qualche spazio maggiore. Però la squadra avversaria si è difesa tutta la partita estremamente. Purtroppo la mancanza di qualche uomo in attacco ci ha penalizzato. Prossima partita con la capolista Palmese. Uscita vincente anche oggi. Sì, la Palmese è una squadra difficile da affrontare. perché ha tutta gente, soprattutto davanti, molto veloce. Quindi se giochi contro queste squadre bisogna stare attenti perché ti ripartono in modo veloce, hanno qualità in mezzo al campo. Sarà una partita dura, dobbiamo interpretare nel migliore dei modi. Cerchiamo di recuperare energie fisiche e mentali e cercheremo di andare a fare la nostra partita anche a Palma Campania.